Buongiorno a tutti, oggi ci troviamo qua nel cuore del centro storico di Modena, in questo appartamento unico nel suo genere. È un palazzo del Settecento e è uno dei pochi sopravvissuti al bombardamento. È un appartamento firmato dall'architetto Vinicio Vecchi. È un appartamento molto dinamico, ha degli inserti barocchi e ha una pianta che prende tre lati e si affaccia all'interno di un bellissimo chiostro. Grazie. 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 Grazie a tutti. Ora vi devo salutare però perché sto preparando la sauna